La nostra regione è interessata dal passaggio di una moderata perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale, perturbazione che sarà seguita da aria molto fredda, la quale tra la serata di venerdì e la giornata di sabato 22 gennaio determinerà una sensibile diminuzione delle temperature ed un cospicuo rinforzo del vento dai quadranti nord orientali, il tutto in regime di alta pressione per cui senza precipitazioni associate. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla cartina prevista per la giornata di sabato 22 gennaio, la depressione colma di aria gelida interesserà direttamente la Grecia e la Turchia, dove è prevista un'ondata di gelo con bufere di neve. Dunque, sulla nostra regione, l'ondata di freddo si rivelerà di moderata intensità e solo a tratti risulterà intensa. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 22 gennaio, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, salvo locali addensamenti nelle prime ore della giornata lungo la dorsale appenninica, dove potrebbero verificarsi locali e brevi piovaschi con spruzzate di neve al di sopra dei 700 metri. Temperature in diminuzione, venti moderati a tratti forti da nord-est e mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Domenica 23, condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con locali addensamenti nelle aree montuose, ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in lieve temporaneo aumento nei valori massimi, venti tra debole e moderati settentrionali e mare poco mosso. Lunedì, il nucleo di aria gelida che stazionerà sulla penisola ellenica tenderà a muoversi con moto retrogrado verso ovest, interessando più direttamente il settore sudorientale della nostra penisola. Ne risentirà anche la nostra regione con un nuovo rinforzo del vento da est nord-est e una più sensibile diminuzione delle temperature. Lungo la dorsale appenninica ci sarà occasione per deboli nevicate a quote molto basse e localmente qualche fiocco potrebbe interessare anche le basse colline che si affacciano sul tirreno. Ma si tratterà di fenomeni di poco conto, anche perché da martedì l'alta pressione delle azzorre spingerà verso est, allontanando il vortice freddo verso il Mar Nero. Tuttavia, almeno fino a giovedì 27 gennaio, le temperature si manterranno sul valore al di sotto della media, ma in un contesto asciutto e prevalentemente soleggiato. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.